Siamo in una partita molto dura perché tutti e due vogliamo conquistare due punti. Noi veniamo da una brutta partita contro il Tortone, vogliamo subito rifarci. Abbiamo una bella possibilità di rifarci perché giochiamo in casa contro una grande squadra e il pubblico è a nostro favore, quindi vogliamo fare bene. Siamo in una battaglia perché loro comunque sono una squadra fortissima e hanno nomi importanti, ma noi vogliamo fare davvero bene e quindi sarà una partita molto tosta. Se avverrà una difesa forte come nell'ultimo periodo stiamo facendo, magari in attacco bisogna sbagliare un po' di meno, giocare più di squadra e correre. Poi fare quello che facciamo in regolamento, che magari ci è venuto meno contro Tortona. Adesso abbiamo avuto dieci giorni per lavorarci su e speriamo che ci vedano i risultati domenica. Sono contento perché a giocare contro una squadra c'è sempre un po' di stimoli in più, però non vediamo l'ora giocare domenica perché comunque i derby sono sempre belli da giocare, quindi non vedo l'ora che sia domenica. Abbiamo bisogno della spinta dei tifosi che ci danno ogni domenica perché quando giochiamo in casa ci danno quella spinta a fare meglio, ci danno la forza di buttarci su ogni pallone e quindi speriamo che vengono come sempre, che ci diano il loro sostegno come ogni domenica in casa. Grazie.